Andrea Malavolta, una giornata importante il 3 giugno allo stadio comunale di Teramo in ricordo di tuo fratello Romi. Sì, è una giornata in memoria di mio fratello Romi che pensiamo possa rendergli onore per quanto lui ha amato questa città, per quello che ha fatto per questa città. Sarà sicuramente bello per tutti rivedere un po' tutte le vecchie glorie che hanno partecipato a questi dieci anni di presidenza mio fratello, ma soprattutto vuole essere un ricordo da parte di tutti gli amici che sono stati sempre vicini a lui, prima, durante e dopo e anche nel bene e nel male. Quindi è un ricordo di cuore nei confronti di una persona per me speciale. Qual è il tuo ricordo più importante, personale, da fratello più piccolo? Ma sono tanti sorrisi, tante pacche sulle spalle, anche qualche litigio magari, però poi l'amore fraterno è sempre una cosa che va al di sopra di ogni discussione e sono sicuramente più sorrisi che altro. Nella manifestazione parteciperanno un po' tutti i calciatori più rappresentativi dei dieci anni di presidenza di mio fratello, a partire da Pepe che è adesso il più conosciuto, a Viso, Bagalini, Carrozzieri, Motta, ma anche quelli che lui ha trovato al primo anno di presidenza, quando prese la squadra con una bandiera come Fabrizio Grilli, Pepe Giamicis e tanti altri. L'incasso verrà devoluto totalmente in beneficenza alla Cura Alliance, che è un'associazione che fa ricerca per farmaci immunosoppressori, che sono quei farmaci che vengono adoperati dai soggetti trapiantati e che molte volte purtroppo causano anche degli scompensi a livello di salute importanti e che nel caso specifico mio fratello gli hanno creato più di qualche problema.